All'interno del reparto di pediatria, in questo caso nella ludoteca, con il primario il dottor Martini, per parlare di influenze, di virus, ma non di Covid. Perché? Perché questo tipo di malattie stanno tornando e dobbiamo usare questo verbo perché sono due anni che voi non vedevate alcune casistiche. Bravissima, ha proprio capito e intercettato la questione, è proprio questa. Questo anno e mezzo di misure protettive, contenitive nei confronti del Covid hanno permesso appunto di fare piazza pulita di molte forme virali. L'anno scorso non si è vista l'influenza, che invece quest'anno aspettiamo, e non si sono visti tutta una serie di virus nel bambino, soprattutto piccolo, che di solito noi siamo annualmente preparati ad affrontare. Mi riferisco soprattutto al famoso virus respiratorio sinciziale, che è causa di una problematica respiratoria che può essere anche impegnativa nel bambino molto piccolo. Stiamo parlando del bambino sotto l'anno di età, ma in particolar modo di quello nei primi sei mesi di vita. Quindi questa è una cosa che siamo abituati ad affrontare ogni anno e già stiamo vedendo dei casi, anche noi come nel tutto territorio nazionale, che stanno pervenendo alla nostra attenzione. Gli strumenti per gestire questi casi, alcuni sono anche piuttosto impegnativi, ci raccontava, sono cambiati, sono migliorati? Sì, noi siamo diciamo ben armati nei confronti della problematica dell'insufficienza respiratoria da virale, in particolare da virus respiratorio sinciziale. Abbiamo non soltanto più l'ossigenoterapia tradizionale, ma abbiamo dei macchinari non invasivi che ci permettono di assistere questi piccoli. Mi riferisco soprattutto all'ossigenoterapia ad alti flussi, che sono ossigeno riscaldato e umidificato e che ci permette veramente di affrontare anche situazioni più problematiche. Ecco, sono virus, malattie piuttosto subdole perché si presentano come un semplice raffreddore. Quindi un genitore, quale campanello d'allarme deve ascoltare? Esattamente così. Nel bambino di età scolare o nelle infante che va all'asilo, sopra due o tre anni, si presentano, sto riferendomi al virus respiratorio sinciziale, come un banalissimo raffreddore e tale rimane nel bambino più grande. La differenza è che se questo stesso virus viene contratto nei primi mesi di vita, soprattutto da certe categorie, dopo semmai se ne parla con un rischio maggiore, il rischio di un'insufficienza respiratoria è più alto. I vaccini al momento non ci sono, ma sono molto prossimi. Ci sono tre studi in fase 3, vuol dire che sono vicini, nella gravida nel terzo trimestre di gravidanza. nella gravida perché in gravidanza, perché naturalmente, potete ben capire, che è proprio il piccolissimo sotto i tre mesi che va coperto e il modo migliore di proteggere un lattantino piccolo è di intervenire nella mamma che fabbrica anticorpi e li passa attraverso la placenta e quindi dà una dotazione alla nascita che lo protegge. Le cose da fare, quali sono? Allora, alla fine la sintesi sono chi ha in famiglia questi casi e ha un bambino piccolo deve tenere molta attenzione, quindi lavaggio delle mani, la mascherina, tenere il distanziamento tra il bambino più grande e quello più piccolo. Primo. Secondo, il fumo di sigaretta è dimostrato, fumo passivo in casa quando si fuma il piccolino è sottoposto a un rischio maggiore di evoluzione negativa, quindi questo va ricordato assolutamente. Terzo, l'allattamento materno. L'allattamento materno è, anche attraverso il latte materno, vengono passati anticorpi dalla mamma. La mamma ha una memoria immunitaria perché si ha incontrato il virus anni fa, ancora qualche cosa ha. In questo momento, e ritorno al chiudo il cerchio, queste mamme hanno, siccome la memoria anticorpale per VRS è breve, è probabile che molte mamme non hanno una memoria sufficiente. Ecco perché stiamo vedendo dei casi un pochino più importanti. Grazie.